Che cos'è per te la vita? Che cosa per me la vita? Per me la vita è come un salto di gioia. È una domanda abbastanza dura, non lo so nemmeno io. La vita è una sorpresa. È una cosa che non si ferma mai. È come se fosse una montagna russa interminabile. La vita per me è un gioco, è quello, essere un nino, un bimbo. La vita è... la vita. Ma la vita è... la vita è un cabaret. Come to the cabaret. È una cosa che si ferma mai. Grazie a tutti.